Una partita un po' anomala anche per la formazione, però l'Ole che se l'hai cavata molto bene. Sì, infatti ho fatto i complimenti che non era semplice. Queste partite è anomala, è difficile approcciarla, noi volevamo vincere, non è che siamo venuti qua così per fare una scampagnata. Volevamo vincere, l'approccio è stato dei migliori, siamo partiti così, poi c'è stata una relazione del terzo, nel quarto potevamo fare meglio, dovevamo portare ancora avanti la partita al tie-break, è andata così, lo sentiamo e pensiamo a domani l'altro. Lilan, che tipo di avversario è? Lilan ci abbiamo già giocato, li conosciamo abbastanza bene, è un avversario, tutti qua sono temibili, bisogna approcciare le partite come abbiamo fatto nelle partite di questo girone e giocare a viso aperto.